Ciao da Serralunga! Nel giorno di buon lunedì vorrei presentarvi il nostro villaggio Barolo del Comune di Serralunga d'Alba. Questo vino è fatto da sei diverse persone, tutte in Serralunga d'Alba. Broglio, Meriame e Damiano, nella parte centrale della città. Baudana, Costabella e Sorano, in un'altra parte. E quindi questo gruppo, con diversa esposione di soli, altitudine e caratteristiche di soli, sono ripetati e fermentati separati, prima di essere diventati. E quindi, sicuramente, Barolo del Comune di Serralunga d'Alba ha esprimato l'unico magnifico di Serralunga terroir a questo punto. Un saluto! Ciao!